La mia cucina è la cucina del territorio. Uso dei prodotti del chilometro zero, mi piace seguire la stagionalità, che siano anche prodotti organici possibili. Mi piacciono molto questi prodotti biologici, nel limite dei possibili. È sempre una cucina comunque con pochi ingredienti, che si riconoscono gli ingredienti. È una cucina sincera, vera. Dipende da stagione. Adesso ho il tartufo, perché qua siamo nella terra del tartufo. Poi seguendo la stagione, primavera e estate, le asparagi. Poi ci sono la zucca a settembre. Seguendo sempre i prodotti del territorio di stagione. Grazie. Grazie.